E' una povertà che delle volte è causata da situazioni di fragilità. Ecco, il mio assessorato si occupa di queste situazioni. Attraverso, volevo parlarvi oggi di due esperienze importanti. Una è quella che porta avanti da sempre il nostro ufficio Lucil, che è proprio l'ufficio per gli inserimenti lavorativi. In questo ufficio arrivano le richieste anche spesso attraverso i servizi sociali oppure persone non conosciute dai servizi sociali che però si avvicinano a questi uffici dove vengono selezionate i vari bisogni e quindi indirizzati verso il mondo del lavoro. E quindi anche insieme alle aziende che poi si occuperanno attraverso le borse lavoro di assumere questi soggetti. Ecco, sono due esempi, due progetti, non esempi, due progetti che riguardano l'inclusione sociale. Che cosa possiamo dire a chi appunto ha questo problema enorme, vitale, che, cosa possiamo dire, il Comune di Genova mette, che strumenti dà a disposizione? Ecco, attraverso questo ufficio si possono poi accedere ai CEL, che sono i centri di educazione al lavoro. I CEL noi abbiamo sul territorio 6 CEL, è un'esperienza apprettamente del Comune di Genova e quindi non tanti altri comuni in Italia fanno un'esperienza di questo genere. I ragazzi dai 16 ai 20 anni possono attraverso questo centro di educazione al lavoro lavorare soprattutto sul fare, quindi sono laboratori completamente gestiti dal Comune di Genova, quindi con denaro messo dal Comune di Genova, dove si fanno laboratori di carpenteria, di falegnameria, di lavoro manuale per il cucito e dove i ragazzi possono anche, perché abbiamo fatto un protocollo con gli istituti scolastici genovesi, possono anche fare tre giorni presso i CEL e due giorni presso la scuola, per quelli che devono ancora capire se il percorso scolastico va bene per loro o seppure preferiscono rivolgersi al mondo del lavoro. I CEL hanno avuto un grandissimo risultato, da ultimo abbiamo inaugurato due sale a Palazzo Rosso, dove sono stati fatti dei lavori su un teatrino e sulle marionette, tutto eseguito dai ragazzi del CEL. Possiamo dare dei numeri, Assessore, di ragazzi che hanno partecipato a questo? In questi sei CEL sono impegnati attualmente 120 ragazzi, perché sono 20 ragazzi per CEL, la nostra sfida è aprire un altro CEL se arrivassimo a nove. C'è lo spazio per farlo, no? Lo spazio appunto, bisogna trovare i fondi, perché questi sono tutti fondi del Comune di Genova, ma devo dire che visto che questa amministrazione sta lavorando su questo, apriremo a breve anche il settimo, io di questo ne sono certa. Quando si entra in un CEL, l'ultima cosa che volevo dire, la sensazione, almeno per me è questa, quindi mi piacerebbe che i cittadini genovesi lì visitassero, entrare in questo CEL e si trova una situazione di assoluto benessere e tranquillità. I ragazzi abbassano la loro aggressività, lavorano insieme con gli educatori che insegnano loro proprio a stare insieme agli altri, ma anche a lavorare. Allora il pubblico ci segue, dottoressa, siamo in diretta e dicono ma c'è un comunicato stampa, dove posso leggere quello di cui state parlando? Me lo scrive Guido, direi, da Cornigliano. Allora i CEL è tutta la funzione, sul sito del Comune di Genova si trovano le indicazioni, a Lucic, appunto il nostro ufficio di coordinamento si trovano, ma io sono qua anche proprio per pubblicizzare questo tipo di attività, perché la pubblicità spesso è legata a una situazione dove pensi di ottenere dei vantaggi economici, invece questa è una pubblicità legata proprio a quello che fanno le politiche sociali del Comune di Genova. Non c'è nessun motivo economico ma solo un aspetto personale. Noi vogliamo arrivare ai bisogni e alle fragilità della persona e quindi questo ci sembra il modo migliore per far passare questo messaggio alla città. Io posso darvi intanto un'indicazione di quelli che sono i nostri CEL, Tempi Moderni che si trova in via Celese a 63 in Valpolcevera, quindi a Rivarolo, la Scurvale in via Garello 47 Rosso sempre in Valpolcevera a Certosa, Arianna in salita Franzonina 24 Rosso in bassa Val Bisagno, la Torretta in via Narisano 14 a Cornigliano al Medio Ponente, il Lab 85 in via della Maddalena 29A che è centro-est, quindi il municipio centro-est, e il cantiere in centro-ovest a San Pier d'Arena. Quindi la sfida è arrivare almeno a nove CEL, quindi ai nove municipi. Eh sì, perché sono nove i municipi di Genova. Una volta intrapresa questa strada, qual è poi il futuro che si apre a chi appunto intraprende questo percorso? Ecco, dopo questo, quando i ragazzi acquisiscono una loro professionalità proprio sul fare, quindi attività di questo tipo, il CEL sono in contatto e l'UCIL è in contatto con le aziende, come dicevamo all'inizio, e quindi si iniziano anche dei percorsi di borse lavoro, per poi arrivare, la nostra speranza è che vengano tutti impiegati. I numeri per ora ci stanno dando ragione, quindi questa è sicuramente una strada che continueremo a incrementare. No, riavvolgiamo un attimo il naso, assessore. Ricordiamo allora chi si sintonizza adesso, ci vede adesso, a chi ci stiamo rivolgendo? Per questi CEL di cui ho parlato, per i ragazzi dai 16 ai 20 anni. Ok. Poi abbiamo un CEL di... Cioè, il ragazzo, mi permetta, il ragazzo ci seguono in questo caso, o se non so, potrebbero anche stare a casa, i ragazzi, vista la giornata, però i genitori, i nonni. Se il ragazzo, il nipote ha un'incertezza dal punto di vista dello studio? Sì, quando proprio i ragazzi... In che momento? Abbiamo anche tutto il fenomeno dei NEET, no? Di coloro che decidono di non fare nulla. Questo è l'atteggiamento ormai di tantissimi ragazzi. Se pensiamo in Italia, ci sono 3 milioni e mezzo di ragazzi, tra i 16 e i 35 anni, o che non fanno nulla, o che non vengono inseriti nel mondo del lavoro, perché hanno fatto un percorso sbagliato all'inizio. Certo. Quindi noi vogliamo intercettare qui, sul territorio genovese... E magari il genitore non sa cosa fare, immagino anche la pena del genitore, noi non vogliamo colpevolizzare nessuno. No, no. Però vede il proprio figliolo, la propria figliola, inerti o inermi, e dicono che dobbiamo fare. Dice, ma perché non vai? Ho sentito in televisione, perché non ti occupi di questo, per esempio? Vede che è un ottimo... Mi stanno scrivendo, vede? Lei è fortunata, perché è nel programma più visto di tutto il mondo. Ottima idea quella di insegnare un mestiere ai ragazzi. Ricorda l'apprendistato dei miei tempi, così Gino B. Esatto. Oggi purtroppo sull'apprendistato ci sono poi anche per i datori di lavoro degli impegni importanti, invece questo è proprio tutto gestito a livello comunale e quindi con educatori e operatori del settore che aiutano anche il ragazzo a comprendere. Non è solo li facciamo lavorare e basta, li accompagniamo al mondo del lavoro. Questo deve essere un po' la mission di questi ICL e tutti gestiti attraverso l'UCI, quindi il nostro ufficio di coordinamento all'inserimento lavorativo. Ecco, per l'altro senso, questi ragazzi apprendono subito, al di là delle cose da fare, ma hanno l'entusiasmo, per continuare, lo fanno già in un'età precoce, per cui arrivano nel famoso mondo del lavoro, quello degli adulti, già con un bel bagaglio di professionalità. Ripeto, è anche bello poter pensare al vostro, al nostro, ai vostri figlioli, ai vostri nipoti che si mettono su a fare qualcosa. Magari lo studio non è più attrattivo, per carità, per tante e tante ragioni, però dici, guarda, ci sono queste possibilità, tra poco speriamo saranno nove, uno per il municipio, ma insomma, perché no avere questa opportunità? Questo è il primo progetto grande che viene portato avanti con questo scopo. L'altro è quello di invece un patto di sussidiarietà che abbiamo studiato con gli enti del terzo settore che si chiama Startup. Questo è rivolto alle persone che hanno un po' più anni, che sono magari uscite dal mondo del lavoro perché l'azienda ha più per mille motivi, dopo magari anche percorsi di separazione personale dalla famiglia, insomma, ognuno con le sue fragilità. Esatto. Si possono rivolgere, quindi parliamo di soggetti che vanno dai 20 anni, perché i CEL si occupano dei ragazzi dai 16 ai 20, abbiamo un CEL adulti che invece sta portando avanti un percorso anche per gli adulti, ma oggi è uno, e poi abbiamo pensato a un altro tipo di struttura, che è questa appunto di Startup, che individuiamo con il nome Startup, perché ormai è un nome conosciuto a livello cittadino, dove creando dei centri di prossimità, anche questi sono dislocati sul territorio, le persone possono, portando le loro problematiche e quindi capendo, gli operatori potendo capire le loro fragilità, indirizzarli al mondo del lavoro, anche qui creando qualche professionalità, per esempio dei corsi come quello della sicurezza, che possono quindi incrementare, migliorare il curriculum di queste persone. Quindi chi esce, chi è uscito dal mondo del lavoro, può rientrare, cioè ha questo mezzo per rientrare. Per rientrare, o chi si affaccia la prima volta e trova un po' di difficoltà. E ha più di 20 anni. Sì, difficoltà che nascono anche dal fatto che spesso abbiamo delle fragilità, non dimentichiamoci che io non sono l'assessore allo sviluppo economico, sono l'assessore alle politiche sociali. Quindi il mio compito è quello di arrivare alle fragilità, ai bisogni delle persone. Ecco, questo è un altro percorso importantissimo, i numeri ci hanno sbaragliato, non pensavamo che questo progetto arrivasse a interessare più di 800 persone. abbiamo avuto moltissimi inserimenti lavorativi grazie al lavoro di start-up. Ringrazio pubblicamente tutti gli operatori e gli enti del terzo settore che se ne occupano in modo importante perché sono arrivati, si vede, al centro del problema. Se i numeri sono questi. Anche in questo caso l'amico mi chiede da casa dove mi posso informare. Cioè mi interessa start-up dove lo trovo. Io ricordo sempre che noi abbiamo i nostri servizi sociali, l'ATS famoso, l'ATS in ogni municipio, quindi quello è sicuramente un percorso. I centri di prossimità sono attualmente presso il Sestiere del Molo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, una alla Maddalena sempre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e poi in via Pre, inaugurato il 21 aprile del 2023, da mercoledì a venerdì dalle 9 alle 17. E poi abbiamo aperto un centro di prossimità presso la casa di quartiere di Certosa che fa l'orario dal lunedì al giovedì dalle 9.13 fino alle 18 e il martedì dalle 19.30 fino alle 15. Questi sono gli orari in cui è possibile dal centro di prossimità avere informazioni su questo progetto. Bene. Allora, memorizzate, telespettatori, ci siamo detti tutto, direi. Assessore, è vero, ho ancora qualcosa da dire. L'ultima cosa veloce. L'ho capito che aveva. L'ho capito, l'ho capito. Quando inizio a parlarne non vorrei smettere mai. Eh, lo so, anch'io. Abbiamo le officine della cura che offrono invece dei servizi concreti per i cittadini o per i turisti, eccetera. Questi sono l'officina della cura al Sestiere della Maddalena che ha la funzione di casa dei riders. Quindi i riders possono appoggiarsi a questo a questa officina per qualche riparazione sulla bicicletta riposarsi un attimo insomma bere qualcosa poi ce ne abbiamo una presso il Sestiere preghetto una presso il Molo e una a Certosa. Ok. Detto tutto? Bene. Qui ci sono delle squadre che proprio... Lorenza, il tempo è trascorso è finito purtroppo tutti si domandano ma penso che vedremo anche in replica insomma lo rivedrete quando ci ritrovate in replica prendete nota sul sito del Comune trovate tutto. Grazie per essere stata con noi buone cose a chi intraprende veramente con tanta tanta speranza questa inclusione sociale sapete che è fondamentale per la vita di tutti noi. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.